Benvenuti a questo imperdibile appuntamento prenatalizio. Come sapete la Camera ha appena votato la riforma su MES, una riforma che praticamente prevede una ristrutturazione del debito, una roba, lacrime e sangue. Quindi noi abbiamo deciso di anticipare le intenzioni del Governo e di cominciare a svendere attraverso questa simbolica asta i beni della nostra nazione. Ringraziamo gli sponsor di questo evento, Conte, Zingaretti, la Casaleggio Associati, Casalino, Di Maio. Quindi direi che possiamo iniziare, perché la platea è presente, direi di iniziare col primo lotto di questa asta, le pensioni degli italiani. Il lotto comprende una draconiana riforma e l'allungamento dell'età pensionabile. Base d'asta, cinque poltrone. Noi useremo come merce di scambio per quest'asta le poltrone di qualche parlamentare dei Cinque Stelle. Base d'asta, cinque poltrone. Chi chiama? Cinque poltrone, cinque stelle. Cinque, dieci, dieci, undici. Trenta, uno, trenta, due, trenta e tre. Aggiudicato a trenta. Secondo lotto, risparmi dagli italiani. Il lotto comprende una patrimoniale, una tassazione sui redditi di tutti gli italiani. Base d'asta, sei poltrone. Chi chiama? Sette, otto, dieci, quattro, dieci, dodici, quindici, venti, venticinque, trenta, ventisette, trenta e uno, trenta e due, trenta e tre. Aggiudicato. Terzo lotto, terzo lotto molto prestigioso. Infatti vedo una platea di turchi, cinesi, tedeschi e francesi. Le nostre infrastrutture strategiche. Il lotto comprende ferrovie, porti, autostrade, aeroporti. Base d'asta, dieci poltrone. Cinquecento dieci. Un casalino. Quanto anni? E uno? Seicento. 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 Seicento e uno. Seicento. Seicinquanta. Seicinquanta. Settecento. Settecento. Settecento e uno. Settecento e due. Settecento e tre. Aggiudicato. I meravigliosi e invidiatissimi beni culturali italiani. Torre di Pisa, Colosseo, Ponte di Rialto. Tutto quanto. Base d'asta. Quindici poltrone. Cento. Cento. Mille. 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 Una raggi. Una raggi. E un appendino. Un appendino. Franceschia e cento poltrone. Franceschia e cento. Ha giudicato. Ha vinto la raggi. Ha spaventato quella raggi. Il futuro dei nostri figli, delle giovani generazioni italiane che rischiano che il proprio futuro venga compromesso dai debiti creati dal MES. Base d'asta, venti poltrone. Aspetta, è preparato. Ai piocchi, aiuta ai piocchi. Bravo, Paolo. E quello è il settantaquattresimo figlio. Bravo, Paolo. È mai servissimo. Sette che fai bacchi. Base d'asta per il futuro dei nostri figli, venti poltrone. Trenta, cento, cento, duecento, duecento, ottocento più Zana e Boldrini. Ottocento più Zana e Boldrini. Mille e cinque abbonetti. Mille e cinque abbonetti. Chi rilancia? Zana e Boldrini. No, ma...